Oggi noi gruppo giovani del FAI qua di Mantova abbiamo organizzato questa visita a Villa La Favorita qui a Porto Mantovano per ricordare un po' insieme come è nata questa villa che spesso non viene presa in considerazione ma che ha rappresentato una delle più grandi architetture per Mantova dal 600 in poi. Viene progettata e commissionata da Ferdinando Gonzaga, il sesto duca di Mantova, ad un architetto che aveva conosciuto a Roma, ancora molto giovane, Nicolò Sebregondi, ma che poi qui a Mantova realizza tantissime altre opere. È una villa che viene progettata all'inizio del 600 e quindi ci mostra alcuni caratteri del manierismo e alcuni caratteri del barocco e per questo in tutte le guide dell'epoca era raccontata e ricordata come una delle meraviglie di Mantova assolutamente da non perdere. Con l'evento di oggi Viaggio nel Tempo Visita La Villa Favorita vogliamo riproporre una delle residenze principali per i Gonzaga e in tutto il suo splendore. Questo grazie alle ricostruzioni architettoniche inedite basate su ricerche d'archivio fatte apposta per l'occasione da Guglielmo Calciolari, ideatore anche di Mantova Fortezza, che ci restituisce così pezzi della villa e dei giardini famosi in tutta Europa nel 600. La facciata sud di Villa La Favorita era quella che caratterizzava gli spazi privati del duca, era quella sulla quale si affacciavano i loggiati e il salone delle feste ed era quella dalla quale era possibile vedere l'intera città, il suo profilo, i suoi laghi e anche tenere d'occhio da un certo punto di vista gli affari privati della famiglia. Ad oggi rimane ovviamente solo un terzo circa di quello che era la fabbrica originale che però ancora ci consente di leggere il grande loggiato che si caratterizzava per queste colonne binate, le sene binate e che si affacciava per l'appunto su un enorme giardino di circa 520 metri di estensione ricco di giochi d'acqua e altre invenzioni dell'ingegnere delle acque che si era occupato della costruzione. La villa nel suo momento di splendore, e stiamo parlando della villa nel 1600 quando Federico Gonzaga l'ha fatta costruire, era il fiore all'occhiello delle dimore dei Gonzaga, soprattutto negli intenti, perché Federico Gonzaga aveva il chiaro proposito di rendere questa villa una vera e propria pinacoteca per impressionare poi i uomini del governo che passavano di qua. Tutto questo è andato un po' in fumo, un po' per la morte di Federico Gonzaga nel 1626, un po' perché sono rimasti senza soldi, un po' perché il destino poi di una villa fatta costruire da un duca che aveva il proprio ego come punto principale e che poi è andato in rovina, non poteva essere che una villa andata in rovina. Ecco, queste qui erano le pozioni francesi, vennero attaccate dagli austriaci che venivano sia da Cittadella sia dalla parte, diciamo così, di Padova. Qui, in questa casa, c'era Napoleone, quindi neanche l'ultimo arrivato. C'erano alcuni francesi più importanti di Francia, che poi saranno anche dei marescialli. Faccio due nomi per chi magari mastica un po' di storia napoleonica, Serrurie e Massena. Contro, invece, avevano delle truppe austriache che venivano da quella parte, erano delle truppe che venivano da Padova, erano al comando di un maresciallo austriaco veneziano. La villa era completata da quella che viene definita nei documenti dell'epoca la palazzina, che altro non era che la casa dei custodi, un elemento che può essere considerato secondario, ma in realtà era il completamento della villa stessa. Infatti è sempre opera dello stesso progettista, l'architetto Sebregondi. Questa palazzina fungeva anche da ingresso, infatti la villa era circondata da un muretto di recinzione e da qui passavano gli illustri ospiti dei Gonzaga, che quindi già dovevano avere un assaggio della magnificenza dei loro ospiti. Questa dimora, a differenza della villa principale, nonostante sia di uso più dimesso, si è conservata molto meglio, questo perché ha ospitato anche successivamente alla caduta dei Gonzaga i lavoratori del fondo agricolo che qui si trovava.